Ed eccoci dunque alla seconda parte del nostro TG Mattino dedicato allo sport che apriamo analizzando le pagine del Corriere dell'Umbria. Ternana, Pitia e Ufficiali, finlandese del Bologna, Puntella, un centrocampo rivoluzionato, ora Ramos Alba. Difesa e attacco sono rodati, la mediana di Lucarelli invece deve trovare l'amalgama. Asta con il Catania per Mastino Mezzala Mancino che è in uscita dal Pisa. Nuovi Rosoperdi sotto la lente, Marginian degli Sordi in Romania al gol con il Novala. Intanto oggi a San Nicola scatta il campionato alle 20.30 il superanticipo Bari-Palermo. Grifo al lavoro per Dalmonte, bisogna fare cassa per dare l'assalto all'esterno offessivo in uscito dal Vicenza. Trattativa in corso per i classi 97, Ventura, un'opzione se salta ad Amonis della Lazio. Intanto Carmine e Sgarbi ripartono dalla B con il Cosenza. Accordo raggiunto con i due svincolati di lusso, il bomber si è allenato per settimane con il Trestina. E si parte e si torna a parlare di Gubbio. Su il sipario vogliamo fare bene. Ieri la presentazione della squadra al Barbetti via il portiere bisogni. Presidente notari ma piedi a terra, campionato tosto. E proprio il Gubbio e o meglio il campionato del Gubbio ci dà lo spunto per il prossimo servizio perché il sindaco ha emesso una particolare ordinanza. Sentiamo quale. Si inizia da sabato con l'amichevole allo Stadio Barbetti tra Gubbio e Perugia. Si proseguirà in tutte le giornate di campionato di calcio Serie C quando il Gubbio gioca in casa ma anche in tutti gli appuntamenti di Coppa o amichevoli che si disputeranno allo Stadio Comunale. Parliamo dell'ordinanza numero 192 dello scorso 11 agosto con la quale il sindaco Stirati ha vietato agli esercenti di pubblici esercizi, alle attività di commercio su area pubblica, a quelle in forma itinerante, agli esercizi commerciali alimentari di vendita al dettaglio, ai laboratori artigianali alimentari, ai titolari di distributori automatici di bevande, di vendere per asporto bevande alcoliche di qualunque gradazione in qualsiasi contenitore di vetro e nonna, nonché altre bevande contenute in lattine e in bottiglie di vetro a partire da due ore prima dell'inizio della partita fino a un'ora dopo la conclusione della stessa. L'area interessata dal provvedimento è quella che ricade tra via Leonardo da Vinci a partire dall'intersezione con via Michelangelo, via del Bottagnone, via Paruccini, tratto compreso tra via del Teatro Romano e il Cavalcavia posto a sud dello stadio, via Madonna di Mezzopiano. Il provvedimento nasce dalla volontà di garantire l'ordine pubblico e prevenire fenomeni di degenerazione come stati d'ubriachezza molesta e il lancio di oggetti contundenti che potrebbero arrecare danno a cose e persone. Il tutto recependo anche la determinazione dell'Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive istituito presso il Ministero dell'Interno che dà indicazioni precise su come comportarsi in merito alla vendita di bevande alcoliche non. L'ordinanza assegna al dirigente responsabile del settore commercio del Comune la possibilità di deroghe su precisa istanza. La violazione di quanto imposto è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 fino a 500 euro. Dopo due sanzioni si passa alla sospensione dell'attività per due giorni individuati dall'amministrazione tra quelli in cui è prevista una partita di campionato. Se il fatto viene reiterato, si arriva alla sospensione per tutte le giornate di campionato successive. I servizi non si applicano agli esercizi e alle attività nel caso di effettuazione di servizi di consegna a domicilio del cliente. Da sabato dunque attenzione alle norme. E proseguiamo la nostra rassegna ripartendo da dove ce l'avevamo lasciati con la bici fino a Caponord. Si chiama Gocce per la vita, la raccolta di fondi per il reparto di onco-ematologia pediatrico. L'impresa di Paolino è compiuta a 5.000 km da Mantignana, la Norvegia. E' solo la prima parte di un sogno, quello di aiutare i bambini malati di cancro. Intanto c'è il Memorial, la Tavernelle, Settevalli Pile e Capocavallo ad Agello per il triangolare dedicato ad Alessio Felicino. Maestrelli, Darderi, semifinale azzurra, gli internazionali di Todi, il Toscana battuta ad Ebru. La mia versione è top. Intanto nel calcio a 7, il bar Valnerina chiude in trionfo il torneo in ricordo di Santi. Due gare di livello mondiale in vista per Anita Pazzaglia. Dall'8 al 10 settembre sarà in Irlanda, poi di Siena Cifro. La Ternana, passata alla categoria Signores di Karate, è attesa da sfide importanti. Passiamo alla Nazione. Perugia, prima l'uscita e poi dal Monte. Asta per Santoro e Brescia sorpassa tutti. L'esterno delle Vicenza piace, ma l'operazione costa, si attendono le sessioni con la Lazio e quella del centrocampista che piace, Alex Castagnini. Intanto cambiano le modalità di pre-vendita per gli ospiti al Memorial Mancini, Castori, ecco chi è, Fravo sulle Magi. Questo Gubbio piace davvero, pronti per dare battaglia a tutti. In Serie C la presentazione della squadra, mentre in Serie D l'Orvietana prende il difressore Cossu. Bartocini, primo raduno, post-ferie, volley, magliette nere al lavoro al palazzetto di San Marco. Intanto Ternana c'è anche Pitia, assenze a centrocampo con la Sampdoria, auto l'infortunato Agazzo e lo squalificato Boico. Capozuca continua a trattare con Baieie, Mastinu, Lella e Nestorovitski. Scolvolle di Perugia si riparte con un team giovane guidato dal veterano Arcangeli. Grifo, Dalmonte, pronto a dire sì. Da Vicenza mettono i Perugia in prima fila per all'esterno d'attacco, riduce da una stagione con nove gole e sette assist. Intanto semifinale azzurra Todi per quanto riguarda il tennis. Gubbio, Braia, daremo fastidio a tutti, bisogno se ne va, affermato Mercadante. Foligno, ecco gli abbonamenti, la CF deve scegliere un difensore. Il presidente guida, venite allo stadio. In vista della prima di campionato contro la Samp, parla il numero uno rosso-verde. Sono emozionato, dopo la Coppa, il debutto in casa. Vedrò la partita dalla tribuna. Intanto a passeggiata Narni, il Festival dei Lanci raddoppia gli eventi. Memorial Mario Ciccioni, antipasto d'eccellenza con i derby della Conca. E con questa notizia noi chiudiamo l'appuntamento di questa mattina. Grazie per essere stati con noi e buona continuazione nei nostri programmi. Grazie per essere stati con noi.